E Paola se la tirava, diceva sì sì l'ho fatto io, volete vedere come lo faccio? E davanti a loro Paola ha preso la cintura e ha iniziato di nuovo a inferire a picchiare Silvia. Cioè nessuno nel vicinato ha mai detto niente, ha mai fatto qualcosa per salvare questa ragazzina perché era chiaro che stava succedendo qualcosa di molto brutto in quella casa. Red Room! Sì, però sappiate che la seconda stagione sarà una bomba, quindi... La seconda stagione proprio sarà su un altro livello ragazzi. In più su YouTube, non ovviamente sulle piattaforme podcast, uscirà anche uno speciale di fine stagione che vedrete a breve insomma, quindi vi consigliamo di andare a iscrivervi sul canale YouTube. Per quest'ultimo episodio della prima stagione abbiamo scelto di raccontarvi un caso decisamente particolare ovvero il caso di Silvia Likens che è, caro Andrew, è l'unico caso che io abbia mai affrontato che mi ha fatto stare male fisicamente. Non mi sono informata per la prima volta per fare il podcast, avevo visto il film. Il film. E il film mi aveva traumatizzato, cioè ti giuro l'ho stata male proprio fisicamente, mi veniva da vomitare. Sì, il film tra l'altro è abbastanza fedele a quello che è successo, per cui dopo questo video se non l'avete visto andatelo a vedere, si chiama La ragazza della porta accanto. Sì, ed è davvero... cioè a me, che potete immaginare, sono abituati, cioè nel senso studio casi del genere da più di un anno ne avrò letti boi centinaia. Non lo so, quello in particolare, non facevo ancora True Crime quando ho visto questo film. Quando hai visto? Io penso che l'ho visto più o meno a otto, nove anni quel film. Oh madonna. Sì, ovviamente non capivo molte cose, per cui non è stato così pesante. No, no, certo. Però è davvero una storia che i ragazzi vi farà sentire male, di sicuro psicologicamente, perché vi verrà una tristezza verso questa ragazza, inimmaginabile, sì. La nostra storia inizia in Indiana, più precisamente in una città di circa 15.000 abitanti chiamata Lebanon. Tra le tante famiglie che vivevano a Lebanon c'erano anche i Likens. La famiglia era formata dai coniugi, Elizabeth Matheson, che chiameremo da qua in poi Betty, perché tutti si riferivano a lei come Betty, e Lester Likens. Erano due giostrai, cioè si occupavano di manutenzione, di preparazione di varie giostre, appunto Luna Park, parchi divertimenti, circhi, cose del genere. Quindi giravano anche molto, erano un po' senza fissa dimora. Certo, chiaramente di conseguenza dovevano un po' seguire, magari le carovani, i circhi o i Luna Park, che si spostavano anche a livello di stagione, chiaramente. Avevano una marea di figli, avevano in tutto cinque figli. E tra l'altro, cosa che a me ha stranito molto, avevano due coppie di gemelli. Una coppia dei gemelli erano anche i figli maggiori, ed erano Diana e Danny, che erano nati nel 47. La terza figlia è anche la protagonista della nostra storia, ovvero Silvia, che era nata nel 49. E poi avevano avuto altri due gemelli, Jenny e Benny, che erano nati nel 1950. Jenny, l'ultima femmina, diciamo nata nella famiglia, aveva avuto la poliomielite. E in seguito a questa malattia aveva perso quasi del tutto l'utilizzo di una delle due gambe. E doveva indossare un tutore che le permettesse di rimanere, di tenere la gamba rigida per poterci camminare sopra. E diciamo che comunque era abbastanza invalidante questa cosa alla gamba che aveva, aveva delle difficoltà chiaramente a camminare, correre o comunque tirare su pesi pesanti. E in particolare Silvia l'aveva presa un po' sotto la sua ala, era molto protettiva nei suoi confronti. Per quanto riguarda la situazione di questa famiglia, non era molto stabile, sia dal punto di vista di relazione tra i due genitori, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Come vi diceva prima André, ovviamente per il tipo di lavoro che facevano dovevano viaggiare moltissimo, quindi anche questi bambini crescono vivendo in moltissimi posti diversi. Pensate che nei 16 anni che aveva Silvia, nel 65, si era trasferita 14 volte. Almeno, poi. Quindi, cioè voglio dire, una media di quasi un trasferimento l'anno è decisamente tanto. In ogni caso, la famiglia inizia un pochino a sfaldarsi, soprattutto il rapporto tra Betty e Lester non va benissimo, tanto che decidono di separarsi ad un certo punto. Nel 65, infatti, Betty viveva con Silvia e Jenny, mentre la figlia più grande, Diana, era già, insomma, sposata con marito, viveva per i fatti suoi, mentre gli altri due maschi vivevano con la nonna materna. Lester, diciamo, non si occupava di nessun figlio, viaggiava molto per lavoro, quindi non era comunque molto presente nella vita di Silvia e Jenny. E così fino a quando Betty, purtroppo, a causa di tutta una serie di, chiaramente, problematiche economiche, si ritrova a dover rubare per vivere. E durante uno di questi furti viene beccata dalla polizia e di conseguenza arrestata. Quindi, non avendo più una madre in libertà, chiaramente, che si potesse occupare di loro, il padre, Lester, come vi dicevo, era un po' in giro per il mondo a lavorare, non si preoccupava tanto di loro. Avevano un problema nel, anche solo, avere un tetto sulla testa, cioè in cui vivere. E per questo motivo, Lester decide di fare una cosa che, vabbè, magari noi adesso può far strano, al tempo si faceva di più. Sì. Comunque, probabilmente, si poteva fare con una cura un pochino più alta da parte sua. Sì, è stato, diciamo, un po' negligente su questo, non è che abbia indagato molto. No. Lester decide di affidare Silvia e Jenny, per un breve periodo di tempo, dovevano essere due mesi, a una famiglia che viveva nel vicinato in cui avevano vissuto loro fino a quel punto. La famiglia scelta dal padre per accudire le figlie era la famiglia Baniszewski. Allora, diciamo che Lester, il padre di Silvia e degli altri, non è stato molto attento, appunto, a selezionare la casa in cui avrebbero vissuto le sue figlie. Infatti decide di affidare le sue figlie alla casa, appunto, come ha detto Elie, Baniszewski, della famiglia Baniszewski, la cui, diciamo, padrona di casa era una certa Gertrude Baniszewski. Questa Gertrude è una persona di cui vi devo parlare, ragazzi, perché dobbiamo introdurla, dobbiamo capire chi è e il suo passato, per quello che sappiamo, per cercare almeno di capire, anche se è inconcepibile quello che farà. Comunque, dobbiamo cercare di capire chi è questa Gertrude. Questa Gertrude nasce il 19 settembre 1929 a Indianapolis, nell'Indiana. Non si sa tantissimo della sua infanzia, sappiamo che era la terza di cinque fratelli e non era, non andava molto d'accordo con sua madre, mentre era molto attaccata a suo padre, per qualche motivo che non conosciamo. E all'età di soli dieci anni ha visto suo padre morire per un attacco cardiaco improvviso, all'età di soli 51 anni. Quindi questa cosa sicuramente l'ha segnata. Certo. E questa è un'ipotesi mia, non ne sono sicuro, però credo che l'ambiente in casa non fosse dei migliori, perché in futuro Gertrude avrà dei comportamenti che non sono normali, che da qualche parte deve aver visto e quindi li ha replicati. Quindi sei anni dopo la morte del padre, lei a 16 anni decide di lasciare la scuola per sposarsi con un certo John Baniszewski, che era un diciottenne e che faceva il poliziotto. Questo matrimonio durerà dieci anni, che non sono stati affatto facili per Gertrude, perché hanno avuto quattro figli insieme, dopo vi diremo tutti i nomi, perché preparatevi ci sono tantissimi nomi, cercheremo di mettere magari più immagini rispetto al solito. E dopo dieci anni appunto di questo matrimonio Gertrude decide di divorziare, finalmente di andarsene, perché questo John in realtà era molto violento con lei, la abusava comunque in molti modi, che però non conosciamo. Sappiamo che era violento, le alzava le mani di sicuro, per cui lei alla fine è riuscita a trovare la forza di divorziare. Sole tre settimane dopo dal divorzio, Gertrude si sposa nuovamente, questa volta con un uomo di nome Edward Guthrie, con il quale però rimane sposata per soli tre mesi, quindi... Sì, non durò moltissimo. Sì, non deve essere andata molto bene questa relazione. Io in realtà ho una teoria qua, che secondo me non è neanche... cioè non è durato poco perché magari non funzionava il matrimonio, ma perché infatti... cioè perché è tornata dal... da John. Dall'ex, infatti. Infatti dopo tre mesi lei ritorna da John, il suo primo marito, e si risposano. Da questa seconda unione avranno altri due figli, per cui per ora siamo un totale di sei. Nonostante tutto divorzieranno di nuovo, per la seconda volta, nel 1963. Questa volta, alcune settimane dopo, Gertrude diciamo che non perde tempo, e incontra, anzi si sposa con un altro uomo, un ragazzo, anzi un 22enne. Molto più giovane di lei, tra l'altro. Sì, molto più giovane e 22enne, di nome Dennis Lee Wright. A questo punto Gertrude ha 34 anni, mentre appunto il ragazzo nuovo ne ha 22. Da questo matrimonio Gertrude rimarrà incinta. Peccato che, ovviamente anche questo 22enne era abbastanza violento, e dopo nove mesi, appena partorisce il figlio, Dennis Junior, il marito se ne va. La abbandona. Lasciandola di fatto nella merda, scusate la parola, però la lascia nella merda, perché lei adesso ha sette figli a carico, non ha un lavoro, e chiaramente fa molta fatica ad arrivare a fine mese. Sì, tra l'altro ho visto appunto che la maggior parte, comunque anche con le altre relazioni, lei tendeva comunque o non lavorare o sia fare qualche lavoretto, però non abbastanza da poter, insomma, mantenere se stessa, o figuriamoci sette figli. Sì, infatti. Sicuramente anche dal punto di vista economico, oltre che essere lasciata da sola a crescere dei figli, non era una situazione proprio rosa. Esatto, da quanto ho capito lei riceveva comunque dei pagamenti mensili dal primo marito, John, che però non erano sufficienti, e nonostante avesse, diciamo, denunciato il nuovo marito, il 22enne, lui non ha mai pagato gli assegni di mantenimento, per cui era davvero in una situazione molto difficile. Quindi nel 1965 lei si ritrova a vivere con appunto i suoi sette figli al 3850 di East New York Street, in cui pagava un affitto di 55 dollari settimanali, che adesso può sembrare poco, però in realtà all'epoca erano comunque dei soldi. Soprattutto considerando anche che questa signora faceva qualche lavoretto, ma non è che aveva un lavoro che le fruttava chissà quanto. Sì, lei sostanzialmente faceva lavoretti per il vicinato, per esempio si metteva a stirare i vestiti delle famiglie che abitavano lì vicino, oppure faceva anche occasionalmente da babysitter. E pensiamo! Sì, adesso capirete perché è una cosa assurda, per cui diciamo che il padre di Silvia si è fidato un po' per questo motivo, cioè lei faceva quello, lavoretti, babysitter. Sì, però precisiamo che si sarà fidato per questo, però Lester praticamente non è neanche entrato in casa di Gertrude, perché già solo entrando in quella casa si sarebbe reso conto di un po' di cose. Infatti era una casa che, a parte che era spoglissima perché non avevano soldi per far molto, non c'era neanche tanto cibo, mangiavano principalmente tipo crackers, acqua e pane questi bambini. In più la cosa più assurda è che non c'era nemmeno un letto a bambino, cioè la maggior parte dei figli dormivano per terra o si alternavano sui materassi, esatto, a notte. Quindi, cioè, noi parliamo di una facciata perfetta, costruita e quindi il povero Lester si è fidato e questo, cioè, comunque a mio parere ha una responsabilità anche lui. Sì, è stato molto ingenuo comunque, uno, a non visitare la casa e due, a fidarsi sostanzialmente della prima che capita. Esatto. Non ci ha messo per niente la cura che avrebbe dovuto metterci un genitore nel scegliere una famiglia a cui affidare due figlie per due mesi, comunque. Tra l'altro due figlie di Gertrude andavano a scuola con Silvia e la sua sorella più piccola Jenny, per cui già le conoscevano, erano comunque familiari con questa famiglia, nel senso che... Li conoscevano superficialmente. Superficialmente. Anzi, mi pare che fosse partito tutto dal fatto che una sera avevano proprio invitato a fare una sorta di sleepover Silvia e Jenny, per cui forse sono state addirittura loro a dire al padre, guarda che... perché erano già state lì e si erano trovate bene, erano amiche, diciamo. Comunque, il padre secondo me il controllo lo poteva anche fare. Assolutamente, ma cioè, era il minimo proprio che potesse fare in quella situazione. A questo punto dovete sapere che Gertrude ha 36 anni, è una fumatrice incallita, soffre di depressione, prende dei farmaci per l'asma, per cui non è, ecco, la persona più tranquilla di questo mondo, anzi, soffre molto di stress per via dei suoi vari matrimoni falliti, per il fatto che ha difficoltà economiche e i farmaci che prende un po' le provocano degli scatti d'ira. Quindi questa è la situazione. Adesso io direi di fare un po' di nomi. Facciamo i nomi. Ora, oltre a Gertrude, ovviamente adesso andremo a dirvi un po', sarà un po' un elenco di nomi, perché sono tanti figli, ma ci serve poi per riferirci a raccontare tutto quello che avverrà dopo. La figlia maggiore di Gertrude si chiamava Paola e nel 65 aveva 17 anni. Poi c'era la quindicenne Stefani, il dodicenne John Junior, l'undicenne Marie, Shirley di 10 anni, James di 8 e poi il più piccolo di tutti, Dennis Junior, di solo un anno. Quello che era nato dall'ultimo matrimonio, che il padre era scappato via. Esatto. Quindi già comunque parliamo di una casa piena di bambini, in più adesso, da questo punto in poi, entrano a vivere in questa casa anche Silvia e Jenny. Perché il padre, Lester, propone a Gertrude di pagarle 20 dollari settimanali per il mantenimento delle sue due figlie. E lei ovviamente accetta, ha bisogno tantissimo di soldi. Vabbè, effettivamente, stavo pensando, se pagavano 50 dollari di affitto a settimana, cioè 20 sono... Sì, è la metà di affitto praticamente. Quindi sicuramente dal punto di vista di Gertrude le aveva fatto molto gola questa opportunità economica. Per quanto riguarda invece Silvia e Jenny, mettetevi nei panni comunque di adolescenti, la prendono un po' come un'avventura. Stanno due mesi a casa delle amiche, insomma, possono dormire tutte le sere insieme a queste loro amiche. E sempre specifico le virgolette. Sì. Definirle amiche, esatto, mi sembra esagerato. Condividono la camera con Marie, Shirley e James. Quindi tutto sono in cinque a dormire in quella stanza e come vi abbiamo un po' accennato prima, non c'erano letti per tutti. Ah, non solo materasso in cinque. Esatto, non c'era proprio neanche un letto, c'era un materasso per cinque bambini, ragazzini e cioè mi si è spezzato il cuore a leggere che evidentemente facevano proprio a turno. Cioè alcuni si svegliavano in mezzo alla notte per dire adesso tocca a me dormire sul materasso a giorni alterni e gli altri dormivano per terra dove potevano. Nonostante questo comunque all'inizio è stato un periodo per loro molto bello, cioè nel senso si trovavano comunque bene perché erano appunto con dei coetanei, parlavano, chiacchieravano, facevano sleepover tra molte virgolette. E Gertrude si comportava abbastanza bene con loro. Anzi, questa casa qua di Gertrude era vista molto bene in realtà dai ragazzini, non solo i figli di Gertrude e Jenny e Silvia, ma anche da le persone, i ragazzini, i figli dei vicini. Perché Gertrude a quanto pare era libertina, tanto permissiva. Esatto, molto, secondo me non era proprio una cosa di libertina e che proprio non se ne fregava niente. Ne smatteva niente. Lasciava che i figli facessero qualsiasi cosa, bevevano, fumavano, parlavano di sesso, di cose che magari poi all'epoca figuriamoci, no, come erano una volta. Quindi era visto dai ragazzini un paradiso, cioè posso andare a casa di quelle persone lì, fumare, bere, fare quello che voglio e nessuno mi dice niente, mi sgrido o cose del genere. C'era continuamente un via vai da quella casa di ragazzini, tutti amici dei figli, di Silvia anche. Esatto, quindi come dicevi appunto, in realtà nel primo periodo era anche, cioè sì, c'erano problemi economici, mangiavano magari poco, dormivano per terra, però per due ragazzine era quasi una vacanza, no? Sì, alla fine sì. Tutto questo, questa bellissima situazione, fino a quando i pagamenti del padre iniziano a ritardare e non parlo di ritardi di mesi, ma di giorni. E cosa succede quando il primo pagamento non arriva il giorno prestabilito? Un bel casino. Sì, Gertrude decide di sfogare la frustrazione e la rabbia dovute a questo ritardo su Silvia e Jenny e questo sarà purtroppo solo il primo di numerosi episodi di abusi che avverranno da qua in poi. Per questa prima punizione in particolare le colpisce con una cintura, le colpisce entrambe e nel mentre che lo fa di questa punizione le insulta anche, cioè quasi come fosse responsabilità di queste due ragazzine, no? Che il padre non aveva mandato il pagamento. Sì, tipo le ha umiliate. Le ha umiliate. Io mi sono presa cura di voi per un cazzo, cioè tutto così. E loro ovviamente essendo ragazzine non capiscono neanche, cioè non avevano colpa. No, certo. In nessun modo, per cui si terrorizzano un po' da questa reazione di Gertrude. Come se già non fosse abbastanza negativa come situazione, in realtà poi questo pagamento finisce con arrivare letteralmente il giorno dopo. Il giorno dopo. Quindi c'è tutta questa rabbia per nulla, che non sarebbe stata giustificata neanche se non l'avesse mai più pagata. No, no. Però a maggior ragione c'è il pagamento che arriva il giorno dopo. E io mi chiedo, quando è arrivato il pagamento lei non si è sentita proprio una cogliona, scusate il termine, nel senso hai fatto del male a due ragazzine perché non ti arrivava un pagamento che è arrivato il giorno dopo. Non ti senti male? Secondo me non si è fatta proprio minimamente questo gruppo. Non si è fatto il problema, anzi, le è piaciuto il fatto di avere tutto questo potere su queste ragazzine, specialmente su Silvia, di cui era abbastanza gelosa per il suo aspetto fisico e in generale per le aspettative che poteva avere nella vita. Aspettative che lei non ha, diciamo, mai avuto. Sì, secondo me infatti è proprio qua, cioè è stata più una cosa psicologica, cioè secondo me questa punizione che Gertrude ha dato, ha fatto insomma a queste due ragazzine, le è proprio piaciuta. Cioè secondo me ha proprio provato piacere nel farlo e ha pensato bene di farlo ancora, anche perché da questo punto Silvia e Jenny erano abbastanza terrorizzate ovviamente da questa ragazza. Quindi di questo primo episodio non hanno fatto parola assolutamente con nessuno, né col padre, né con amici, né insomma a scuola. Esatto, perché a proposito il padre poco dopo è anche andato a trovarle e loro non gli hanno detto niente. Pensavano che se avessero detto qualcosa Gertrude le avrebbe picchiate ancora di più. E probabilmente, cioè sarebbe successo probabilmente. Probabilmente, anzi, Gertrude le aveva detto se osate dire qualcosa ve le do ancora più forti. Prima di continuare volevo fare un piccolissimo disclaimer per dirvi che ho trovato questo caso davvero atroce, davvero. Quindi paragonabile al caso di Giunco Furuta, che sono sicuro che conoscete, paragonabile al caso di Elochitti. Per cui se non ve la sentite, perché si parla di abusi veramente orribili nei confronti di comunque una ragazzina di 16 anni, se non ve la sentite, schippate la parte degli abusi e tornate dopo per le conseguenze. Sì, perché da qua in poi accadrà di tutto e di più qualcosa di, cioè non so, secondo me è davvero dell'assurdo questo caso, cioè qualcosa di inconcepibile, proprio di psicologico, ma anche c'è nella rete di omertà che si svilupperà nel corso dei giorni e delle settimane a venire. La prima cosa che inizia a fare Gertrude è quello di accusare Silvia in particolare, perché da qua in poi, appunto per qualche motivo probabilmente, come quello che hai spiegato tu, cioè che Silvia magari era più carina, rappresentava anche col fatto che comunque Jenny aveva quella disabilità alla gamba, non lo so, magari per qualche motivo Gertrude voleva canirsi particolarmente su Silvia, inizia ad accusarla di tante cose, l'accuserà di tantissime cose in realtà da qua in poi. Prima, cioè proprio a livello cronologico, di aver rubato delle caramelle, cosa che, adesso non sappiamo se Silvia avesse effettivamente rubato queste caramelle. No, non le aveva rubate, non le aveva rubate, lei aveva preso dei rifiuti da un cestino delle bottigliette di soda e le aveva tipo riciclate in cambio di monetine. Con quelle monetine aveva comprato le caramelle. Ah, quindi le aveva proprio... Le aveva comprate, quindi è tornata a casa, Gertrude ha visto le caramelle e l'ha accusata di averle rubate. Nonostante le avesse spiegato tutto quello che aveva fatto. Ma perché era preso in un pretesto così. Sì, sì, da questo momento non esistono giustificazioni, proprio qualsiasi cosa che farà Silvia sarà una colpa per cui nella mente malata di Gertrude deve essere punita. E tra l'altro la cosa terribile è che a questi abusi, che inizialmente vengono fatti per mano di Gertrude, si aggiungono i figli, iniziano ad aggiungersi pian piano i figli, incoraggiati all'inizio da Gertrude, ma poi una volta, diciamo, rotto il ghiaccio all'inizio, molto spesso erano, cioè proprio di loro spontanea volontà, iniziavano a seviziare questa ragazzina. In particolare Paola, che è la figlia più grande, che ha 17 anni, cioè non parliamo di una bambina di 6 che gli dice una cosa e la fa, non si fa neanche il problema. Paola, in una condizione un po' particolare, perché in quel periodo aveva scoperto, tra l'altro abbastanza da poco, di essere incinta. Ed era rimasta incinta da un rapporto che aveva avuto con un uomo sposato. Oltre ad essere sposato, non aveva nessuna intenzione di prendersi la responsabilità di quella gravidanza. Per cui Gertrude mi sta troppo sulle parti. Perché, allora, questo qua, nella mentalità di Gertrude, sarebbe dovuto essere un peccato, ma proprio a livelli altissimi, per cui avrebbe dovuto punire, secondo la sua logica, sua figlia. Non succede niente. Ma la cosa più assurda è che non solo nella sua testa c'è una roba tipo una cosa inutile che magari faceva Silvia, era chissà che finì mondo, e la figlia invece no, ma in più iniziano entrambe, diciamo, parte da Paola questa cosa, ma si aggiunge anche Gertrude, ad accusare Silvia stessa di essere incinta. Anche se non era vero, non era incinta. Anzi, è venuto fuori in realtà da un'analisi medica che Silvia addirittura era sterile, quindi non era neanche possibile, a prescindere. Cioè, praticamente davano contro a Silvia per questa cosa, dicendo che era incinta, le davano della prostituta, senza contare che, cioè... Paola era incinta. Paola, anche Paola era incinta, quindi voglio dire qual era la differenza tra... Infatti. Oltre al fatto che Silvia non era incinta, quindi mi ammettiamo anche fosse incinta, perché questa divergenza, cioè questa differenza di trattamento sulla stessa identica cosa? È successo questa cosa, ha iniziato a chiamarla prostituta perché aveva sentito una conversazione che Silvia stava avendo con delle sue figlie, in cui aveva detto di aver conosciuto un ragazzo tempo prima. Gertrude si è intromessa in questa conversazione, le ha chiesto, ma quindi ti ha toccata? E lei ha detto... gliel'ha confermato, tra virgolette, in qualche modo le ha detto sì. Quindi, nel senso, qual è il problema? Certo. E allora lei da lì ha iniziato a chiamarla prostituta e ha iniziato a dirle che era incinta, perché un ragazzo l'aveva toccata. E inizia anche a dire, che pazza veramente, inizia a dire a tutto il vicinato che Silvia è una prostituta, è incinta e che... Sì, per il tocco. Sì, per il tocco, magicamente, ok. E quindi dice anche a tutte le ragazze che qualora un ragazzo avesse usato a toccarli nelle parti intime, sarebbero rimaste incinta. Cioè, questa cosa, secondo me, la dice anche un po' per tenere le persone lontane da Silvia in particolare? Cioè, per isolarla ancora ulteriormente, come se non fosse... Sì, per dire, guardate questa prostituta si è fatta toccare, è finita così, non prendete esempio da lei che è una brutta persona. E la cosa che mi dispiace è che Silvia, così come anche sua sorellina di 15 anni, non si rendevano conto della gravità delle cose che stavano subendo. Cioè, di sicuro le accusavano, nel senso, sentivano tutto il dolore. Sì, non era una cosa facile, certo. Non era molto, non era facile. Però non si rendevano conto che in realtà bastava chiedere aiuto. Sì. Perché erano terrorizzate. Sì. Per cui non si rendevano proprio conto del fatto che se loro avessero voluto sarebbero potute uscire da lì. E sta cosa mi ha spezzato il cuore perché poverine... E' terribile perché ti fa rendere conto di quanto fossero totalmente incastrate proprio psicologicamente, intendo, nella situazione. E poi una cosa, cioè, si sviluppa in realtà anche una dipendenza reciproca tra Jenny e Silvia, perché Silvia era quasi come se non volesse magari parlarne, alterare in questo modo magari Gertrude, per proteggere la sorellina. Perché nella sua testa era, ok, mi prendo tutte queste cose io, ma non le fanno a Jenny. Quindi, cioè, in qualche modo la sto proteggendo. E Jenny, al contrario, aveva paura di dire qualcosa per finire come Silvia, cioè che facessero a lei le stesse cose che facevano a Silvia. Perché Gertrude le aveva proprio detto, se tu ti osi, a Jenny, se tu ti osi parlare con qualcuno di questa situazione, io non solo ti tratto come tratto Silvia, ma ancora più forte. Per cui lei era terrorizzata, poverina, di dire qualsiasi cosa. Cioè, era creata proprio anche tra di loro, no? Un circolo vizioso da qui e era davvero difficile uscirne. Specialmente a quell'età. Altro episodio, uno di tanti purtroppo, Silvia e Paola partecipano a una cerimonia, un evento religioso, insomma, della chiesa, del quartiere. E a questo evento, dopo questa cerimonia, c'era una sorta di rinfresco, c'era un po' di cibo. E la povera Silvia, che mangiava molto poco a casa di questa Gertrude, perché come vi dicevamo, mangiava ovviamente cracker, pane, acqua e poco altro, proprio se era una giornata particolarmente fortunata. Ma a lei le privava pure il cibo, molto spesso. E tra l'altro, esatto, neanche dava da mangiare a Silvia quanto dava da mangiare agli altri bambini, che probabilmente era poco anche per gli altri bambini. Chiaramente Silvia cosa fa a questa cerimonia? Mangia. Cioè, ha fame, c'è del cibo gratis, mangia. Quando tornano a casa, Paola dice a Gertrude che Silvia si è strafogata di cibo, che ha mangiato tantissimo, e per qualche motivo sia Paola che Gertrude erano ossessionate dal fatto che Silvia avesse mangiato, perché nella loro mente malata Silvia era magra e mangiando così tanto si sarebbe rovinata. Questa cosa, assolutamente, cioè, che di nuovo si tratta secondo me solo di un ennesimo pretesto per, parte un'ennesima punizione sia da parte di Gertrude che da parte di Paola. E sembrano prendere gusto anche da un po' questa versione di abuso che comprendeva l'alimentazione, perché da qua in poi peggiora drasticamente la qualità e la quantità di cibo che viene concesso di mangiare a Silvia. In un ulteriore episodio, all'inizio relativamente di questi abusi, un giorno Gertrude insieme a un ragazzo del vicinato, un quattordicenne abbastanza a caso, che non c'entrava niente con la sua famiglia, fanno mangiare a forza degli hot dog a Silvia pieni di spezie, pieni di condimenti, che chiaramente non sono facili da ingurgitare. Poi lei mangiava poco già di per sé, per cui ha avuto molta fatica a mandarli giù, non è riuscita proprio a mandarli giù e li ha vomitati. Dopo che li ha vomitati, l'hanno costretta a mangiare il suo stesso vomito. Anche questo sconosciuto, questo ragazzino sconosciuto. Che non ha mai poi pensato di dire, guardate cosa è successo ai genitori, a qualcuno, guardate che, non so, sta succedendo, ma sarà solo uno dei tanti che si schierà proprio. Sì, qua siamo solo all'inizio, proprio alla punta dell'iceberg. Da questo episodio in poi, Silvia, per forse l'unico momento che vediamo in questa storia, tenterà un po' di, non voglio dire controbattere perché è brutto, però di fare qualcosa. E praticamente inizia a dire in giro nel liceo che frequenta che Stefani e Paola sono delle prostitute. Che anche qui penso che sia stato un po' un modo di risentimento comunque per quello che le stavano facendo passare, per il fatto che stavano già raccontando a tutti che lei era una prostituta. Insomma, mi sembra anche una reazione abbastanza normale a tutto quello schifo che stava subendo. Solo che delle persone si arrabbiano, non solo Paola e Stefani, ma anche i fidanzati delle due ragazze. In particolare Coy Hubbard, che è questo ragazzo che in quel periodo frequentava stava con Stefani, inizia a picchiarla, ma proprio l'aggredisce fisicamente, inizia a pestarla per queste voci che lei aveva messo in giro. E anzi, non appena arriva a casa, Silvia riceve ulteriori percosse da parte di Gertrude, una volta che Paola ovviamente e Stefani le raccontano subito quello che era successo. Sì, anche perché a questo punto, scusa, le figlie più grandi, Paola e Stefani, tipo arrivavano a casa e dicevano a Gertrude, guarda che Silvia ha fatto questo, guarda che... Che a volte cose anche inventate, tra l'altro. Sì, solo per... perché sapevano che avrebbe comportato delle punizioni inumane. Sì, e poi è curioso secondo me perché c'è sicuramente un qualche tipo di soddisfazione, anche da parte di, oltre che Gertrude, dico proprio di queste ragazze. Perché non parliamo di bambini di sei anni che dici li hanno cresciuti così, non si pongono neanche domande, no? Magari gli dicono picchia quello e lo picchiano senza farsi domande. Cioè parliamo di ragazze comunque, cioè... Sì. E non è così imbarazzante proprio. In un'altra occasione, Paola, la figlia più grande di Gertrude, sempre lei, inizia a picchiare talmente forte Silvia, specialmente nei denti e sugli occhi, che si rompe il polso. Pensate con quanta forza deve averla colpita. E non contenta, dopo che le hanno messo il gesso, ha continuato col gesso. Sì. Questa cosa mi ha... cioè quanta cattiveria devi avere. E da qua in poi le cose non fanno altro che peggiorare. Gli abusi iniziano a prendere parte ragazzini del vicinato, talmente tanti che probabilmente anche poi dalle indagini non sono neanche riusciti a ricostruire effettivamente quante persone hanno partecipato. E iniziano a serviziarla in ogni modo, non solo a picchiarla, anche a fare delle bruciature con la sigaretta addosso. E in due episodi in partic... almeno due episodi in particolare fanno una cosa davvero terribile, ovvero la costringono a spogliarsi e le infilano una bottiglia di vetro di Coca-Cola nella vagina. Che tra l'altro io ho visto nella scena del film, questa scena qua della bottiglia di vetro, cioè è terribile. Io ho iniziato a star male lì. Io non me lo ricordo. È terribile. Però lo volevo ripetere, questo caso mi ha proprio... No, io ho fatto una fatica a informarmi per questo caso, quando ho capito che l'avevi proposto, che era questo. Ti giuro, io non so come... ho affrontato casi anche... Cioè, nel senso, non è che affrontiamo robe belle, no? Sui nostri canali, però... No, questo è veramente... Ma io mi ricordo già quando ho visto il video, il video, il film. Ero stata male il film, cioè... E per parlare dell'omertà, quello che dicevamo prima, cioè di quante persone sapessero quello che stava succedendo in quella casa e di quanto se ne fossero poi assolutamente fregate, dei vicini di casa si sono trasferiti di fianco a loro, nel mentre, appunto, che Silvia e Jenny vivevano lì. E anche loro avevano delle figlie, avevano bisogno di qualcuno che si occupasse di loro. E hanno pensato bene di affidarli anche loro a Gertrude. Prima, però, di affidarli, hanno deciso di invitarli per un barbecue. Così, così... Cioè, per conoscere Gertrude prima di vedere se affidarli effettivamente o meno i figli. E innanzitutto già notano che Silvia aveva un occhio gonfio e nero, che già non è proprio un indice, voglio dire, no? Di cose che funzionano bene. In più, durante questo barbecue, Paola ha preso un bicchiere d'acqua bollente e l'ha versato addosso a Silvia. Così, diciamo di... Perché si vantava addirittura. Si vantava, sì, sì, si vantava di quello che l'aveva fatta. Di nuovo, cioè, se io vedessi una scena del genere, capirei subito, ovviamente, che c'è qualcosa che non va. Questi per qualche motivo non dissero niente, non fecero niente, non segnalarono la cosa alla polizia. Sempre loro avevano visto, in un giorno diverso, Silvia con labbra e occhi gonfi, e c'era Paola anche lì con loro. E hanno chiesto che cosa è successo. E Paola se la tirava. Diceva, sì, sì, l'ho fatto io. Volete vedere come lo faccio? E davanti a loro, Paola ha preso la cintura e ha iniziato di nuovo a inferire a picchiare Silvia. E io mi immagino loro lì, a guardare. Cioè, che cazzo va? Fai qualcosa, di qualcosa. Fantascienza pura per me. Cioè, nessuno nel vicinato ha mai detto niente, ha mai fatto qualcosa per salvare questa ragazzina, perché era chiaro che stava succedendo qualcosa di molto brutto in quella casa. Cioè, dopo aver visto questa scena, allora, vabbè, ok, allora noi torniamo a casa. Boh, finita lì. E poi anche tanti bambini. Sì. Che a un certo punto facevano via mai. Bambini no, neanche ragazzi, cioè nel senso... Sì, bambini e ragazzi. Anche 17 anni, insomma, persone... Entravano in quella casa solo per fare del mare a Silvia. Colpa di Gertrude, che ovviamente incitava. Perché lei era l'adulta della situazione, che di adulto aveva un po' di niente, vabbè. Però, cioè, il fatto è quello... Io non lo so, mi sembra... Perché, ok, Gertrude era l'adulta della situazione, quella che ha iniziato il tutto, tutto quello che vuoi. Però, cavolo, anche un quindicenne, un sedicenne, è perfettamente in grado di capire che... Cioè, se ti invitano a casa per spegnere le sigarette addosso a una persona... C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Sì, ma infatti... A questo punto mi viene in mente di considerare il periodo storico, però non è che gli anni Sessanta fossero tutto questo... Cioè, non siamo durante la guerra, che dice ok... No, e come se non bastasse già con persone che... Cioè, Paola e Stefani che si inventavano cose per farla punire, accade anche una cosa da parte della scuola. Cioè, per esempio, Gertrude non voleva acquistare una tuta per Silvia e quella tuta ovviamente serviva a Silvia per partecipare all'ora di educazione fisica. Senza una tuta non avrebbe potuto partecipare, però Gertrude si era rifiutata di acquistargliela. Quindi Silvia decide di rubare una tuta dalla scuola. E la beccano e segnalano questa cosa a Gertrude. E figuriamoci... Cioè, se già Gertrude era pronta a punire e picchiare, bruciare sigarette addosso a questa ragazza per niente, figuriamoci con una scusa del... appunto ha rubato una tuta e a questo punto le brucia tutti i polpastrelli delle dita con la sigaretta, con la sigaretta. Per scoraggiarla dal... Da rubare. Sì, dal rubare. Nello stesso periodo poi anche... Anche Jenny aveva rubato una scarpa sola per la sua gamba buona e era stata beccata. E quindi, come risposta, Gertrude smette di farle andare a scuola. Sì. E la gente si fa davvero troppe poche domande sul perché queste due ragazze smettono di andare a scuola. Anzi, ci sarà un quasi tentativo da parte della scuola di andare a vedere che cosa stava succedendo. Mandano un'infermiera a casa di... Ma perché ha chiamato un vicino. Ah, sì, tra l'altro, è vero, sì, che ha segnato. Manco la scuola si è preoccupata, cioè... Però, comunque, mandano questa infermiera che vede le condizioni di Silvia ma Gertrude dice ah, ma no, no, è così perché ha poche igiene, ha un po' di infezioni, poi esce di casa e torna così, ma tutto a po', tutta una roba da ragazzi e l'infermiera, ok, fantastico, perfetto, sono contenta, vada tutto bene. E se ne è andata senza farci neanche mezza domanda in più su quello che va davanti. È davvero allucinante questa situazione. È una roba che sembra davvero uscita da un film di fantascienza. Sì. E voi direte, vabbè, tutte queste persone che se ne infischiano sono persone magari esterne che non conoscevano nessuno, non avevano a cuore la salute di queste persone. No, perché in un episodio in particolare pure Diana, la sorella maggiore di Silvia e Jenny, se ne infischia altamente. Un giorno la incontrano in un parco, anzi la incontrano due volte in realtà, però la prima volta sono insieme a una figlia di Gertrude, quindi non possono dire niente. La seconda volta che la incontrano decidono di raccontarle quello che stavano subendo in quella casa. E Diana pensa semplicemente che stiano esagerando. La prima volta in particolare che l'avevano vista in cui c'era anche una figlia di Gertrude, Silvia aveva chiesto alla sorella più grande, Diana, cioè le aveva detto che aveva fame. In risposta Diana le ha dato un sandwich. Questa cosa alla figlia di Gertrude non è piaciuta affatto. Infatti appena sono tornati a casa l'ha detto alla madre che ha accusato Silvia del peccato di gola. Cioè, capito. E quindi per ripulirla, madonna che brutto sto pezzo, per ripulirla dal suo peccato di gola, riempie questa vasca di acqua bollente, le lega i polsi e le caviglie e la inzuppa in questa vasca bollente ma l'acqua era talmente calda che Silvia perde i sensi più volte mentre fa sta cosa. E Gertrude, quando Silvia perde i sensi inizia a sbattere la testa contro il muro per svegliarla. Cioè, vi rendete conto della crudeltà di questi gesti? Cioè, ha chiesto un sandwich? E in cambio la... sì. Ma comunque Diana ha pensato che stessero esagerando con le sorelle però ci ha un po' pensato poi dopo ci ha rimuginato sopra, ha detto ma se non stanno molto bene cosa succede? Cioè, devo far qualcosa, no? Solo che non sapeva dove abitassero. Cioè, per dirvi anche il livello di comunicazione che c'era in quella famiglia comunque. Non sapeva dove... Ma che cavolo? Cioè, l'unica persona adulta che... esclusivamente la madre che si trovava in carcere in quel periodo che viveva in città e il padre, l'essere, non dice alla figlia maggiore guarda che sono lì per ogni evenienza, no? Cioè, se hai bisogno di qualcosa o se loro hanno bisogno di qualcosa sappi che sono al numero civico X. Esatto, non dice niente. Però a un certo punto non ho ben capito come riesce a trovare l'indirizzo della casa di Gertrude va da lei, bussa per controllare come stanno le sue sorelle. È un po' preoccupata a questo punto. Gertrude in risposta apre la porta e la intima di andarsene subito perché aveva il consenso di loro padre a non farle vedere. Cioè, a non far vedere Silvia e Jenny con Diana. Gli ha detto guarda che tuo padre mi ha detto di non farvi vedere a voi e l'ha mandata via col fatto che in America se tu entri nella mia proprietà posso chiamarla la polizia, eccetera. Poteva anche ucciderla. Certo, certo. Certo, c'è andata bene forse. E quindi Diana è stata costretta ad andarsene. Però cosa fa? Chiama gli assistenti sociali. Finalmente. Che non fanno niente di serio. Cioè, vanno a vedere la casa. Silvia in questo momento era giù nel seminterrato per un altro problema che adesso vi spieghiamo. E Gertrude spiega a questi assistenti sociali che Silvia semplicemente era scappata. Non era più lì. E loro... Ah, ok, fantastico. Allora, torniamo un'altra volta. Cioè, come? Io adesso non voglio... Magari ci sono anche servizi sociali che funzionano bene, per carità, ma in un macello di casi... È vero. Cioè, che poi dico, a maggior ragione i servizi sociali che, cioè, nel quotidiano del loro lavoro vedranno i peggio scempi, no? Cioè, di cose che accadono. Ah, ok, fantastico. Ma sai quante volte, cioè, anche in altri casi, no? Magari chiamano i servizi sociali, vanno a controllare, o anche la polizia, no? Tutto a posto. Inventano una scusa perché, chiaramente, poi le persone in situazioni tipo Gertrude si giustificano. Ah, ok. Sì, ma perché scusa? Cioè... Sì, sì. È scappata, ok. È una sedicenne con delle ferite che scappa? Cazzo, cercala. Sì, sì. Nel senso... Poi, magari, negli anni 60 non era usanza aiutare le persone in difficoltà, non lo so. Però, vabbè. Fatto sta che con tutto questo... questa premessa, questa enorme premessa, arriviamo, purtroppo, al clou un po' di quello che sono stati gli abusi su Silvia. A questo punto, contate che Silvia non va a scuola perché Gertrude l'ha tol... cioè, non... l'ha obbligata praticamente a non andare più. Passa la maggior parte del suo tempo quasi totale nella cantina, nel seminterrato di questa casa. Le danno praticamente niente da mangiare e costretta a mangiare e a bere le sue urine e le sue feci. Viene seviziata quotidianamente da chiunque, cioè, principalmente da Gertrude e le sue figlie, ma... Addirittura aveva iniziato a far pagare i bambini del posto, i ragazzini del posto cinquecentesimi per entrare in casa. Gertrude è questo. Gli faceva pagare cinquecentesimi per entrare in casa e trattare Silvia come... Sì, sì, sì. Fare quello che volevano con Silvia. Cioè, cinquecentesimi, questo valeva. E questi ragazzini, questi bambini pagavano questi cinquecentesimi per andare e fare le peggio cose. In questo periodo, oltre ai pestaggi, come potete immaginare, la ustionano, usano un agorovente per scriverle, per fare dei segni dei numeri sul corpo, la ustionano con dell'acqua bollente, insomma, proprio qualsiasi tipo di abuso voi possiate immaginare. A questo punto siamo verso fine ottobre, Silvia è stremata da quei mesi di sevizie di ogni tipo. In particolare, il 26 ottobre del 65 sarà, da un lato fortunatamente, dall'altro fortunatamente, la fine di queste enormi sofferenze che ha avuto Silvia. Quel giorno Silvia era stremata, non era proprio priva di sensi, ma quasi, e Gertrude decide di inciderle sul ventre con un ago rovente, una scritta, voleva scrivergli sono una prostituta e ne vado fiera, e tra l'altro c'è questa anche ossessione strana tra le tante di Gertrude nell'accusare Silvia di essere una prostituta. Sì, non ha proprio senso. Non ha proprio senso, però è una cosa che è ritornata molte volte nei vari abusi, quindi. Il fatto sa che mentre faceva quest'incisione a Gertrude dava fastidio l'odore, chiaramente, perché di carne bruciata, e decide di far terminare questa scritta da un ragazzo, un ragazzo di nome Richard Hobbes, che era uno di questi vicini, cioè figli dei vicini, che andavano lì per partecipare a queste sevizie. Poi il tutto, scusa, questa cosa dell'incisione è cominciata perché Silvia aveva tentato di scappare, ma non era riuscita ad arrivare neanche alla porta, perché aveva sentito che Gertrude parlava con i suoi figli del fatto che si era sostanzialmente rotta le palle di avere Silvia in casa e volevano abbandonarla in un bosco lì vicino a farla morire di fame, per cui quando lei ha sentito sta cosa ha detto ok, devo fare qualcosa, ha cercato più o meno di ribellarsi, di scappare, e in risposta gli hanno, cioè, gli hanno inciso queste parole e Gertrude infieriva, continuava a dirle ma adesso come farai a trovarti un marito che sei ridotta così, cioè, una situazione veramente fuori, non lo so, non so neanche come descriverla, non ha senso. ha dell'incomprensibile, cioè, sembra davvero una storia inventata, da quanto, cioè, da quanto sia assurda. Fatto sta che, stremata da tutti questi mesi di torture, il 26 ottobre morirà di emorragia cerebrale. Quando si rendono conto che Silvia non risponde più, cercano prima di picchiarla, perché immaginano che sia svenuta, come in realtà era svenuta tante altre volte, la prima a rendersi conto che probabilmente era morta è Stefani, che cercherà di rianimarla, cioè di farle la respirazione bocca a bocca, non servirà molto, quindi chiederà al fidanzato, a Koi, di andare a chiamare la polizia. La polizia arriverà, troveranno il corpo di Silvia senza vita, chiaramente in condizioni, come vi abbiamo raccontato, che non poteva passare per una caduta dalle scale, per dire. Anzi, proprio. Ma Gertrude era pronta con una scusa, consegna loro una lettera firmata a suo dire da Silvia, dove praticamente confermava, quello che poi racconterà lei stessa, cioè Gertrude alla polizia, che praticamente Silvia di sua spontanea volontà aveva accettato dei soldi per andare ad avere dei rapporti con un gruppo di ragazzi che l'avevano poi seviziata. Quindi quelle condizioni in cui era anche la scritta sul ventre, eccetera, era stato il frutto delle azioni di queste persone, inesistenti ovviamente, perché si trattava di una bugia, che appunto le avevano fatto queste cose qui. Fortunatamente Jenny, la figlia più piccola, quando sente la versione che stava raccontando Gertrude, dice alla polizia, gli chiede, gli implora di portarla via da lì, ha detto se mi portate via di qui vi racconto la verità, vi racconto tutto quello che è successo negli scorsi mesi, tutto quello che vi abbiamo raccontato finora. per cui la polizia riesce a portare fuori Jenny, lei racconta tutto e arrestano finalmente Gertrude, ma anche molti dei figli e anche molti ragazzi del vicinato, non sto a farvi nomi anche perché è difficile trovarli proprio tutti, ma in sostanza cosa succede al processo di Gertrude? Lei si dichiara non colpevole per insanità mentale e anzi dà la colpa di tutte queste sevizie, di queste torture, ai suoi figli, nel senso lei dice io non ero cosciente in quel periodo lì, ero strafatta dei psicofarmaci, dei farmaci per l'asma eccetera, non avevo consapevolezza delle mie azioni, è colpa dei figli. Fortunatamente però i figli dicono no, ci ha incoraggiato lei, non che renda meno grave il fatto che dei 17 anni abbiamo fatto lo bel genere, però dicono che sono stati incoraggiati da lei. Nonostante tutto alla fine Gertrude per fortuna viene condannata all'ergastolo anche se più avanti, vi dico dopo, mentre i figli, specialmente Paula, viene condannata da 2 a 21 anni di carcere per omicidio di secondo grado, mentre, scusate, Gertrude per omicidio di primo grado, mentre gli altri che erano minorenni al momento del processo vengono condannati da 2 a 21 anni, ma ne sconteranno solo 2 in riformatorio. E la cosa che a me personalmente fa più incazzare è che Gertrude dopo 14 anni di reclusione viene rilasciata per buona condotta e perché dalle altre detenute veniva chiamata mamma da quanto era amorevole. Io questa cosa comunque non la capisco che c'è in America. Cioè che se prendi l'ergastolo, è ergastolo. Cioè cosa vuol dire che esci per buona condotta dopo 10 anni? No, infatti allora non è ergastolo. Ma infatti questa cosa tra l'altro non fa incazzare solo me ma ha fatto incazzare anche molte persone che all'epoca hanno proprio fatto una petizione per farla tornare in prigione. Ma anche perché potete immaginare questo caso di quanto se ne è parlato insomma, no? Cioè è stata una cosa che ha sconvolto abbastanza gli Stati Uniti ma penso sia arrivata anche oltreoceano poi come notizia. Certo. Per cui sì, lei esce, cambia nome. Sì che tra l'altro ce l'abbiamo è Nadine Von Fossen. Nadine Von Fossen che è una sorta di richiamo al suo vero nuove da nubile e però vivrà in libertà per fortuna cioè io per una volta sono contento che qualcuno perché vivrà per cinque anni nell'Iowa poi morirà per cancro ai polmoni. Tra l'altro cosa curiosa che anche Richard Hobbes quello che finì la scritta l'ultima scritta che fecero con l'ago su Silvia muore anche lui poco dopo l'uscita dal riformatorio sempre di cancro ai polmoni. A 21 anni. Paolo invece che finisce in prigione ed è incinta perché ricordiamoci che lei appunto era incinta di quell'uomo sposato finisce col partorire in carcere questa bambina che chiamerà tra l'altro Gertrude in onore di sua cioè in memoria insomma in onore di sua madre questa bambina verrà data in adozione non sappiamo ovviamente a chi sia andata in adozione sicuramente in una famiglia che la tratterà meglio di... ci vuole poco esatto e viene rilasciata per buona condotta anche Paola cambia nome anche lei va a vivere in Iowa dove si è trasferita anche Gertrude ma avrà un matrimonio dei figli insomma una vita normalissima la persona tra queste coinvolte a cui andò meglio tra virgolette passatemi il termine perché cadranno tutte le accuse quindi non si prenderà neanche un mese di prigione è Stefani che anche lei cambierà nome perché chiaramente quel caso famoso tutti sapevano il cognome i nomi eccetera e diventerà addirittura maestra di scuola elementare cioè una persona adatta proprio una persona proprio adatta sensibile anche lei si sposa ha dei figli e lei forse è l'unica che riuscì un po' a fare una vita tra virgolette normale invece per quanto riguarda John anche John uscirà dopo pochissimo cambia nome pure lui si fa una famiglia e morirà nel 2005 a letà di 52 anni per un attacco di cuore per quanto riguarda Koi invece il fidanzato di Stefani viene tra l'altro nel corso della sua vita una volta uscito indagato anche per un omicidio di due uomini queste indagini ufficialmente non porteranno a niente quindi ovviamente tutti innocenti fino a prova contraria muore anche lui a 56 anni nel 2007 sempre di un attacco di cuore e questa cosa fa ancora più arrabbiare perché alla fine nessuna delle persone più involte ha pagato veramente per quello che ha fatto e ricordiamoci che ragazzi dall'autopsia del corpo di Silvia hanno scoperto che aveva davvero tantissime lesioni più di 100 bruciature di sigarette sì in qualsiasi modo proprio era stata seviziata aveva danni interni agli organi alla carne ai muscoli l'hanno veramente ridotta una poltiglia praticamente e nessuno ha pagato davvero invece la casa in cui è avvenuto tutto questo scempio per ovvi motivi hanno avuto diverse difficoltà a tentare di venderla di affittarla insomma per tutto quell'alone che si crea molto spesso in case dove sono avvenuti degli omicidi chiaramente non sono più riusciti a venderla a piazzarle in nessun modo è rimasta è stata abbandonata per 44 anni fino a quando non è stata poi acquistata demolita e attualmente c'è un nel punto in cui prima sorgeva questa casa c'è un parcheggio di una chiesa che c'è di vicino io sono estremamente incazzato comunque alla fine di questo video mi viene quasi da piangere a pensare a Silvia perché poi era una ragazza speranzosa positiva che cercava di aiutare le persone riciclava addirittura negli anni 60 certo era una brava persona distrutta così senza senza neanche un motivo ma poi senza un briciolo di aiuto di pietà da parte delle decine di persone che rimasero coinvolte o che assistettero a queste cose cioè è incomprensibile sembra un racconto fantasy sembra davvero una cosa inventata comunque questo è tutto quello a fatica siamo un po' provati a questo giro con questo episodio questo è tutto quello che abbiamo trovato sul caso abbiamo chiuso proprio col caso più pesante che potessimo trovare vi invitiamo nuovamente a vedere il film una volta sentito perché è veramente brutto per il film nel senso è fatto bene è fatto molto bene è bello però è molto pesante e vi invitiamo oltre a quello ovviamente a iscrivervi su Red Room sul canale YouTube ma anche ascoltarci se preferite nelle varie piattaforme di streaming per podcast purtroppo questa qui è la fine della prima stagione ragazzi vi ricordiamo lo speciale su YouTube se ci ascoltate uscirà uno speciale appunto per festeggiare la prima stagione insomma la conclusione della prima stagione e niente noi ci sentiremo ci vedremo se non ci vedremo sullo speciale di YouTube per la nuova stagione che sarà davvero molto bella non l'abbiamo ancora organizzata ma abbiamo delle idee bellissime e a me è piaciuto un sacco sinceramente questa tutto è stato proprio bello grazie a voi grazie di averci accompagnato in questa prima stagione è solo l'inizio è solo l'inizio niente grazie ancora di essere rimasti con noi per il caso e l'episodio e la stagione di Red Room era tutto ci rivediamo con la prossima stagione buone vacanze Red Room